Questa sera le nazionali di calcio d'Italia e Croazia giocheranno alle 20.45 a Milano la loro quarta partita del girone di qualificazione per l'Europa del 2016. Andiamo a vedere come è messa sia l'Italia che la Croazia. Per ora l'Italia è messa piuttosto bene, nelle prime partite del girone ha battuto agevolmente Norvegia, Azerbaigiano e Malta e in classifica ha punteggio pieno 9 punti. Anche la Croazia ha punteggio pieno, anche se a differenza dell'Italia non ha ancora subito gol. L'Italia non è messa benissimo, infatti il regista titolare e il suo principale sostituto, cioè Andrea Pirlo e Marco Verratti, sono entrambi infortunati e non sono stati nemmeno convocati. Il difensore Angelo Gbonna, difensore della Juventus che sta giocando anche abbastanza bene, ha lasciato il ritiro della nazionale per un infortunio. Stessa cosa è accaduto a Mario Balotelli che era stato convocato per la prima volta da Antonio Conte. Balotelli si è fatto male durante un allenamento e non giocherà neppure contro l'Albania nell'amichevole di martedì. In ambito difensivo, non solo Gbonna ma anche Astori e Andrea Barzalli sono da tempi infortunati e il titolare Leonardo Bonucci è squalificato. Per la partita contro la Croazia Conte ha quindi convocato Emiliano Moretti, 33enne, difensore del Torino, che gioca con una difesa 3 come l'Italia, che in precedenza non era mai stato convocato. Secondo alcuni opinionisti, Conte schiererà come interno di centrocampo Antonio Candreva, centrocampista della Lazio molto tecnico e veloce, e in attacco, nonostante l'infortunio di Balotelli, Conte è piuttosto coperto. Ci sono due centravanti, Immobile e Pellè, e quattro giocatori che possono adattarsi a giocare da seconda punta ad attaccante esterno, Zazza, Cerci e Sciarau e Jovinko. La Croazia invece è una gran bella squadra, che gioca un calcio ordinato e molto tecnico, sa anche essere piuttosto offensiva. Non è chiaro come sarà schierata, Kovac potrebbe disporre la squadra con il 4-2-3-1 oppure con il 4-3-3. Dal centrocampo in su la Croazia ha giocatori molto forti, sia fra titolari e sia fra riserve. Al centrocampo giocheranno sicuramente il 29enne Luka Modric e il 26enne Ivan Rakitic, titolari rispettivamente nella Madrid e nel Barcellona. Modric in particolare è addetta uno dei centrocampisti più forti al mondo in circolazione. Troviamo anche una conoscenza del nostro calcio, cioè Mateo Kovacic, che a 20 anni gioca nell'Inter, elegantissimo e dotato di una grande tecnica e visione di gioco. In attacco probabilmente giocheranno sia Ibi Kaolic, 35enne attaccante ancora in grande forma, che negli anni ha vinto tutto con CSKA Mosca e Bayern Monaco, e Mario Mandzukic. Le probabili formazioni di questa partita sono l'Italia schiererà un 3-5-2 con Buffona in porta, la difesa a 3 schierata con Darmiana, Ranocchia e Chiellini, centrocampo a 5 con De Sciglio, Marchisi, De Rossi, Candreva e Pasqual, e in attacco la Coppa Immobile e Zazza. Per la Croazia si prospetta un 4-4-2 con Subacic in porta, la difesa a 4 con Zna, Lovren, Vida e Corluca, centrocampo a 4 con Rakitic, Modric, Brezovic e Perisic, e in attacco Olic-Manzukic.